I due nuovi acquisti sono già sulla bocca di tutti, meritano questa maglia. Si sono presentati in forma, perfetta. I risultati del test hanno sorpreso a tutti. Hanno dei piedi più che buoni, deliziose. Sono famosi per il loro stile, è inconfondibile. Poi noi ovviamente siamo molto felici di averli in squadra. Però... buoni, Rangelu. M&M's? Buonissimi.